Ci sono venuti a trovarci ma oggi credo che non mancheremo l'impatto e le record di ieri anche se c'è sotto questo sole tutta questa splendida gente ha deciso di stare così Allora, salvo, mettiamo, visto che abbiamo un sacco di volte ci è il Dottor Moreschi Allora, guardiamo se si interrogo l'auto di che anno è? 1969 Il Dottor Moreschi, quante gare ha l'attivo? Ha l'attivo la bellezza di 505 gare E' il secondo, ma almeno, più famoso dopo Tazio Nubolari Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ecco voi pensate avendo 500 cani in vivo il piede e lo smalto non sono cambiati quando si mette a guardia ecco l'incoscienza di un ragazzo salvo mi raccontava il dottor Moreschi e loro correvano ancora sulle palle tè sai di quanti anni andiamo indietro? di un anno è arrivato noi l'anno scorso guardate guardate come gira ragazzi è incredibile in questi giorni ho sentito tanti aneddoti non sono molesti da chi è cresciuto con lui a partire da Claudio Rossetti e buona parte dei commissari di gara che sono qui oggi dottor Moreschi vetrina vetrina venga no lo so ma è talmente bassa la macchina che mi sa che non ti vede Claudio ti facciamo fare un tiro di passerella piano piano un applauso al dottor Moreschi facciamo ammirare questa meraviglia siamo sold out due parole per i suoi mantovani che sono i nostri mantovani un applauso al dottor Moreschi ragazzi allora noi la ringrappiamo e ci vediamo dopo grazie a lei e grazie alla storia